Da oltre 20 anni sul mercato, l'azienda Michele Cioffi e Figli è divenuta ormai punto di riferimento nazionale per la vendita e lo smistamento della pietra di Trani in ogni sua forma, anche per ogni tipo di pietra rustica nazionale ed estera. L'azienda assicura in ogni momento grazie ai 12.000 metri quadrati di esposizione qualsiasi quantità di pietra allo stato naturale o lavorato da scegliere tra oltre 200 articoli. Ingegneri, architetti, geometri, costruttori e posatori riescono a trovare presso la nostra azienda la risposta ad ogni loro particolare richiesta, oltre ad un valido servizio di consulenza in materia di montaggio, adattamento e posa in opera, ottenendo così risultati di massimo livello. Tutto questo permette alla Michele Cioffi e Figli di essere considerata un'azienda leader del settore, che anno dopo anno rinnova e fortifica il suo impegno teso alla massima soddisfazione del cliente. Venite a trovarci di persona presso il nostro punto vendita a Trani, sulla strada provinciale per Andria al chilometro 4. Oppure, per qualsiasi informazione, visitate il nostro sito www.cioffipietreditrani.it o contattateci al numero 0883 580098. La pietra di Trani fa parte della nostra tradizione, racconta la nostra storia, ci rappresenta in Italia e nel mondo. Chi entra a Trani, legge Benvenuto a Trani, città della pietra.